E come è potuta succedere una cosa del genere? Non chiederlo a me, queste sono cose che... E ora abbiamo bisogno di un dispositivo che sia in grado di localizzare l'ultima supersfera del drago Pensi di poterlo realizzare? Localizzare le supersfere del drago? Credo che dovrei modificare il Dragon Radar Dovrei sicuramente renderlo più potente Non è facile, ma sì, tutto sommato ce la potrei fare Solo che... Forse potrebbe esserci un sistema molto più semplice Raccogliamo le sfere del drago della Terra e chiediamo a Sharon dove si trova la supersfera del drago Giusto, bell'idea Sì, astuta Geniale Sì, i miei complimenti In fin dei conti non seguono a testar da rompiscatola che... Un cielo? Nessuno mai aveva osato tirare una sberla a Lord Beerus? Come hai osato? Beh, lasciamo stare Fingerò che non sia successo Visto che hai avuto una buona idea Ehi tu, Vegeta Sì, agli ordini Datti da fare Subito! Bulma, il Dragon Radar! Via! Ma dai, ma quello è davvero Vegeta Ehi, grazie! Ehi, grazie! Ehi, grazie!